Altra buona notizia, ne ho parlato mesi fa, qualcuno che ha sentito ha detto ma cosa sta dicendo, è una stupidaggine, se l'è sognata lui, la sera mangia chissà che cosa, va a dormire, agli incubi sogna queste cose, ovvero sia la famosa spazzatrice intelligente. Cos'è la spazzatrice intelligente? La spazzatrice intelligente è quella spazzatrice che passa nelle strade pur essendoci le auto in sosta, ha un sistema che pulisce anche sotto le auto. Ecco, c'era Firenze, c'era in tanti comuni d'Italia, adesso il comune di Erecco l'ha comprata e dal primo giugno, dalla prossima settimana, inizierà a funzionare. Ha anche un nome, questo apparecchio, si chiama Sweepy Jet. Adesso lancio una sfida. Tutti i comuni che hanno sempre sostenuto che le spazzatrici venivano usate, vengono usate, verranno usate per soltanto pulire le strade, per l'igiene, quindi anche se nevica, se piove, se viene di tutto, si deve passare quindi multe su multe. Non c'è assolutamente ma guai, si offendono le amministrazioni a pensare che ci sia un desiderio di fare cassa, adesso non hanno più alibi, il re è nudo. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso, in testa al comune di Erecco, ma qualcosa era stato fatto anche a Santa Margherita, cosa bisognerà dimostrare? La serietà delle affermazioni. Amate davvero la pulizia? Volete che la città sia pulita? Non vi ne frega niente dare le multe? Anzi, quei mille euro a sera che arrivano grazie alle multe vi fanno schifo, non li volete più? Bene, allora usate sweeping jet e le strade saranno pulite, i cittadini saranno contenti e tutti diranno, ecco un'amministrazione che ama la pulizia ma non mette le mani, come ormai si suol dire, in tasca ai cittadini. Questa è un'espressione che mi inquieta sempre, ogni tanto mi tocco, ma mi staranno mettendo le mani, non me le mette, si riuniva il governo, mettiamo le mani, non le mettiamo, l'opposizione, mi stanno mettendo le mani, so, tutto questo mettere le mani non mi piace molto. Non so a voi, ma è un'espressione levemente un po' volgare di questo mettere le mani nelle tasche e addosso agli altri.